La seconda edizione della Torino Fashion Week sta arrivando, stiamo in fase abbastanza lavorativa, stiamo organizzando, la seconda edizione parte il 27 di giugno e finisce il 3 di luglio, quindi una settimana di sfilate, questa volta una notizia, stop un secondo? No, ufficialmente la posso comunicare perché è uscito già sul sito, abbiamo cambiato la location quindi siamo ai Murazzi, siamo al magazzino De Valle, che è un fantastico spazio, quindi tutto rinnovato, Fashion Week è come sempre fantastica ma leggermente rinnovata come look, quindi sempre più contemporaneo, sempre più innovativo, sempre più interessante, quindi vi aspettiamo presto!